C'è nel tuono e nel lampo una forza particolare che non c'è nella giornata serena. C'è nel cuore e nell'anima una potenza timida che non c'è nella normalità del tempo. Cosa avrà attraversato la mente di lei quel giorno? Su cosa si sarà posato il suo sguardo in un certo istante mentre percorreva con gli altri la sua processione? A volte tutta la vita scorre in un attimo ed è in quell'attimo che senti nel tuono e vedi nel lampo la pienezza dell'esistenza. Chissà se era questo che attraversava il cuore e l'anima di Cleonice, mentre il silenzio stava per sostituirsi al suo respiro. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!